Siamo alla questione 104 e quindi affrontiamo gli effetti del governo divino in particolare. E qui si pone un problema di fondo che è questo. Dio, ricordiamoci sempre che stiamo ragionando nella prospettiva cristiana, ma la teologia non è un opzionale, si fonda sulla fede e nella prospettiva di Tommaso si fonda anche sulla ragione. Non è assolutamente in rotta di collisione con la scienza. Evidentemente certi riferimenti che ci propone Tommaso per esemplificare il pensiero teologico vengono colti dalle conoscenze scientifiche e filosofiche di Aristotele che allora non erano corrette. Ma semmai diciamo che il difetto sta nella filosofia di Aristotele. Se ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo perché magari qualcuno poi legge questo, o segue questa mia lezione per la prima volta, certamente se Tommaso fosse vissuto oggi avrebbe fatto riferimento senza dubbio alle conoscenze scientifiche di oggi. Per Tommaso infatti non esiste un contrasto tra ragione e fede, tra scienza e fede. Ed è logico, no? Arrivano per un credente dallo stesso Dio, non si vede perché le due cose devono entrare in collisione. Dunque, il problema di fondo è questo. Nella prospettiva illuminista, che era una prospettiva deista, Dio era un orologiaio che, ma anche se torniamo indietro nel tempo, se pensiamo ad Epicuro, Dio è un orologiaio che mette insieme, crea il mondo. Nel caso dell'orologiaio, un orologio. Fatto questo orologio, montato, lo mette lì, l'orologio funziona da solo. Dio non ha più bisogno di pensare a questo orologio, non si preoccupa più della sua opera. È un ragionamento abbastanza strano perché qualsiasi operaio si occupa della sua opera, anche per un fatto naturale, per un fatto d'amore. Un artista non prende una sua opera e la butta nel cestino. È qualcosa di innaturale pensare che la perfezione divina possa creare qualcosa e poi dimenticarsene. Tuttavia, quello era il pensiero illuminista. E l'orologio continua da solo a funzionare, in una visione meccanicistica che può affidarsi a volte al caso. Insomma, vediamola come vogliamo. Per la visione cristiana, invece, Dio mantiene all'essere ogni cosa. Se Dio non mantenesse all'essere ogni cosa, questo essere sprofonderebbe. E, già l'abbiamo visto più volte, questa intuizione è stata colta perfettamente dall'esistenzialismo, che molto religioso non era. Io entrai nell'Università di Torino, che era la roccaforte dell'esistenzialismo con Labagnano, quando il professore uscì dalla sua docenza. Però, là, indubbiamente, non avevamo una facoltà di filosofia, come, d'altra parte, un po' l'atteggiamento tipico dei filosofi piemontesi, tolinesi, di credente. Perciò, l'esistenzialismo è consapevole di questa cosa. Noi siamo, ci siamo, ma siamo per il nulla. Questo nulla dentro il quale possiamo sfruttare da un momento all'altro. Mi perdoni chi mi ha seguito fin dall'inizio, perché a volte io mi ripeto, ma mi ripeto per chi, specialmente quando l'argomento è specifico, mi ripeto per chi non ha seguito in modo preciso e ordinato tutte le lezioni. Allora, per il cristianesimo, invece, facendo riferimento anche alla lettera degli ebrei, tutto sostenendo con la parola della sua potenza. Dice Paolo, se Dio non sostiene all'essere il creato, tutto cadrebbe nel nulla. Dal nulla è arrivato e nel nulla ritorna. A proposito, proprio un altro giorno mi è arrivata un'osservazione, dove mi si dice, ma perché lei non vuole credere agli scienziati che dicono che il mondo ha avuto un'origine? Caspita, io credo agli scienziati. Più che mai agli scienziati di oggi. Perché un tempo c'erano degli scienziati, degli filosofi, che dicevano che il mondo era sempre esistito. E allora entravano in collisione col pensiero biblico, che invece ci parla di creazione. E allora, noi oggi, secondo me, siamo ancora più vicini alla prospettiva scientifica. La prospettiva scientifica ci dice che il mondo ha avuto un inizio. È evidente che se ha avuto un inizio, prima non c'era. E se non c'era, è evidente che spesso questo non esserci viene definito da noi il nulla. Che poi, per noi, sia difficile, come in questo caso, sprofondare nel nulla. Come fa una cosa sprofondare nel nulla? Come fa una cosa passare dal nulla all'essere? Diventa difficile concepire un fatto di questo genere. È normale. È normale perché abbiamo detto più di una volta che i nostri sensi sono stati organizzati per conoscere gli oggetti, le persone, gli animali, le piante che ci sono attorno. E i nostri sensi non hanno la capacità di cogliere questi cambiamenti radicali. Il nulla, l'esistere, l'infinito. E più di una volta io ho continuato a ripetere che queste verità ultime, da un punto di vista dei sensi, o da un punto di vista anche solo razionale, è difficile poterci arrivare. Poi, Tommaso ritiene che aiutandosi con la fede, e la ragione aiutata con la fede, ecco, si può arrivare a certi obiettivi, a certe dimostrazioni, ma evidentemente sono dimostrazioni che non sono quelle del 2 più 2 fa 4, no? L'abbiamo ripetuto tante volte. Allora, anche per chi non crede, questa riflessione è interessante, perché come al solito, Tommaso ci dice come qualcosa può essere. Tanto secondo la fede quanto secondo la ragione, è necessario affermare che le creature sono conservate nell'essere da Dio. Una cosa può essere conservata da altri in due modi. Vediamo come si può conservare all'essere un qualcosa. quello che noi genericamente definiamo cosa, un nome in grammatica, un nome comune di cosa o di mano o di persone. Primo, indirettamente è per accidents. È il caso di chi tiene lontano da una cosa, quanto potrebbe distruggerla? Quindi, la grandine cade con violenza, io metto un antigrandine sopra la mia piantagione di pomodori o di peperoni. Questo è per accident. Tengo lontano. L'esempio di Tommaso è più bello, meno terra a terra di quello che ho proposto io. Così, se una bada al bambino, affinché non caschi nel fuoco, si dice che lo conserva. Però è indirettamente, è un per accidents. In questo senso si dice che anche Dio conserva alcuni esseri, ma non tutti, poiché si danno degli esseri per i quali non esistono cause da tenere lontane perché atte a distruggerli. Secondo, si può conservare una cosa formalmente e direttamente. Quando cioè la cosa conservata dipende talmente da chi la conserva da non poter esistere senza di esso. E in questo modo tutte le creature hanno bisogno di essere conservate da Dio. Dice San Gregorio, le creature non potrebbero sussistere nemmeno per un istante, ma ricadrebbero nel nulla se non venissero conservate nell'essere dall'azione della potenza divina. Quindi, là abbiamo un conservare in modo indiretto per accidents. Qui abbiamo un modo di conservare direttamente nell'essere e questo conservare nell'essere è sostanzialmente l'azione continua di Dio nei confronti della propria creatura. D'altra parte, voi capite l'esempio che ci proponevano gli illuministi non stava in piedi. Specialmente allora quando gli orologi funzionavano a carica. Non posso io concepire un orologiaio che costruisce un orologio e l'orologio poi va avanti da solo. Se io non lo carico ogni volta mi vuoi dire come fa a procedere, come fa a... se io non lo pulisco, se io non gli tolgo la polvere, se io non gli do quel minimo di lubrificante, alla fine si deteriora. quindi l'esempio dell'orologio e dell'orologiaio funziona fino a un certo punto. Tenta poi Tommaso di dare una spiegazione. Lui dice ogni effetto dipende dalla sua causa. Ci sono due modi importanti io definiti numero uno numero due come fa un effetto dipendere dalla propria causa. Alcuni agenti sono la causa del loro effetto non direttamente quanto all'essere ma solo quanto al divenire. Pensate al muratore che costruisce una casa. Ma questa costruzione solamente è del divenire perché il materiale che utilizza per costruire la casa è già in essere. Sta semplicemente trasformando quell'essere in forme in qualche cosa che ha una determinata struttura. così il muratore costruisce la casa impiegando calce, pietra e legnale. L'essere della casa dipende dalla natura di quei materiali. Quindi l'essere dipendendo dalla natura di quei materiali che posseggono già l'essere non dipende dal muratore. Dal muratore dipende il divenire che fa sì che certi materiali messi assieme con un certo ordine diano come effetto una casa abitabile. C'è un altro modo anche per accidents se due cose appartengono alla vedessima specie pensate il padre Mario e il figlio Luigi tutte e due hanno come forma uomo. Una non può essere causa diretta e adeguata della forma dell'altra parliamo della forma io come forma uomo non posso essere la causa di mio figlio che rimane pur sempre forma uomo perché perché altrimenti dovrebbe essere causa della propria forma cioè se io sono causa della forma uomo diventerei anche causa della mia forma uomo essendo identica all'essenza di ambedue uomo può essere invece causa di tale forma in quanto essa la forma viene a trovarsi una data materia essa cioè può far sì che con questa materia acquisti quella data forma ma questo equivale a essere causa di nuovo del divenire ed è così che l'uomo genera l'uomo quindi non dà all'uomo l'essere ma semplicemente attraverso un procedimento che è il concepimento poi la gestazione ecco che da determinati elementi primari elementari abbiamo la nascita di un essere umano qui invece ci troviamo nel rapporto dell'essere che dà all'essere l'essere altre volte invece l'effetto non riceve l'influsso causale dalla gente secondo la medesima natura della causa perciò non è causa soltanto del divenire ma dell'essere per conseguenza non può durare il suo essere di un ente di un essere di un'ipostasi se cessa l'azione della gente causa di essa non solo quanto al divenire ma anche quanto all'essere e qui io non ho voluto riportare tutta l'argomentazione perché di nuovo ci sono dei riferimenti alla fisica e all'astronomia aristotelica che non sono più attuali però questo esempio per analogia può funzionare l'aria ad esempio al cessare dell'azione del sole cessa anche la luce che non ha nell'aria la sua radice il sole evidentemente nell'analogia è Dio i raggi del sole illuminano l'aria che quindi non è nelle tenebre ma nel momento in cui i raggi del sole il sole si ritira automaticamente l'aria non è più illuminata nel momento stesso in cui l'azione creatrice di Dio che non è un'azione che è istantanea e poi termina come nella prospettiva deista ma è un'azione che continua nel momento in cui avviene la creazione questa azione continua come la luce del sole che illumina l'aria e diventa causa sia del divenire perché senza luce ad esempio non ci potrebbe essere la fotosintesi clorofiliana sia del divenire ma anche dell'essere ora ogni creatura in rapporto a Dio come l'aria in rapporto al sole che la illumina per questo motivo Sant'Agostino scrive che se per ipotesi la potenza di Dio cessasse di sostenere le cose create cesserebbe all'istante anche la loro specie e ogni natura verrebbe meno come l'aria diventa luminosa alla presenza della luce così l'uomo si illumina quando Dio gli è presente mentre di subito si ottenebra quando Dio si ritrae poi ci sono delle obiezioni che possiamo anche considerare ad esempio la prima obiezione che sostiene evidentemente la teoria la tesi opposta quale sarebbe la tesi opposta che ci sono degli esseri che possono ugualmente sussistere senza la presenza creatrice costante di Dio ciò che non può non essere stiamo facendo riferimento agli esseri spirituali gli intelletti e gli angeli non ha bisogno di venire conservato nell'essere ora visione della creatura che in virtù della loro natura non possono non essere ciò che è inerente ad una cosa come il suo proprietà essenziale è necessario che si trovi in essa ed è impossibile che in essa si trovi il suo contrario così è necessario che il numero due sia pari ed è impossibile che sia dispari ma esistono delle creature che sono forme sussistenti come fu detto degli angeli a esse perciò l'essere inerente è necessario è necessario in riferimento a agenti contingenti che potrebbero in qualche modo in qualche modo farle perire questo vale per l'uomo se per l'uomo che è fatto di corpo gli cade un attegolo in testa va o al pronto soccorso o direttamente al cimitero ecco in questo senso l'essere degli angeli non è soggetto al non essere ma nella prospettiva di quella luce che illumina anche gli angeli sono e dipendono dalla forza essenziale di Dio l'essere di per sé è annesso alla forma della creatura parliamo dell'angelo previo però all'influsso di Dio come la luce segue alla qualità di afana dell'aria previo all'influsso del sole senza il sole l'aria pur trasparente l'aria non la posso bastonare come non può essere bastonato un angelo però nel momento stesso in cui il sole il raggio del sole dovesse venire meno l'aria entrerebbe nella tenedra e naturalmente questa è un'analogia per cogliere intuitivamente il rapporto che c'è tra Dio e le sue creature non dobbiamo prenderla tu cur così parola in modo letterale altrimenti cominciamo a disquisire sul nulla vi ricordate l'impostazione che abbiamo posto fin dall'inizio avviamo Tommaso opposto fin dall'inizio quando parliamo di Dio non possiamo parlare in modo così letterale ma dobbiamo utilizzare metafore analogie per poter cogliere ciò che di insondabile e di infinito presenta la sua natura seconda obiezione si danno degli agenti creati capaci di comunicare al loro effetti il potere da conservarsi da sé nell'essere anche al cessare dell'orazione così al cessare dell'azione del muratore resta la casa quindi a più forte ragione Dio può conferire alle sue creature il potere di conservarsi nell'essere pur cessando lui nella sua azione abbiamo visto che l'opera del muratore è un'opera di divenire innanzitutto ma poi questo discorso che la casa rimane anche dopo l'opera del muratore non sta in piedi non sta in piedi per la semplice ragione che se una casa non viene mantenuta in modo attento attraverso la manutenzione alla fine crolla quindi anche la casa ha bisogno di essere curata per non finire nel nulla per non crollare tendere al non essere è cosa contro natura è violenta per tutte le creature poiché ogni creatura appetisce naturalmente l'essere quindi nessuna creatura può tendere al non essere se non in forza di un agente che la porti alla distruzione ma vi sono degli esseri la cui distruzione sfugge alla forza di qualsiasi agente come le sostanze spirituali ma sostanzialmente questa osservazione è simile alla prima vediamo l'argomento vale per quella specie di conservazione che consiste nel rimuovere gli agenti disgregatori e abbiamo già detto è qualcosa che vale nel momento stesso in cui noi parliamo di enti provvisti di corpo un corpo che può essere colpito e può essere ferito non è certamente la condizione degli angeli se Dio conserva le cose nell'essere questo verrà in forza di una sua azione indubbiamente una tale azione non produce l'essere nella creatura perché non si può fare quello che già esiste perché Dio dovrebbe agire per mantenere all'essere le creature quando sono già state create d'altra parte non produce qualche nuova perfezione perché ogni azione per essere tale dovrebbe perfezionare l'oggetto su cui cade la sua opera dunque le creature non sono conservate nell'essere da Dio e c'è una sottigliezza che coglie Tommaso in questo pensiero lui dice Dio non conserva le cose con una nuova azione ma continuando l'azione con la quale deve essere la creazione continua il fatto stesso ma guardate che queste sono cose che in modo analogico noi troviamo anche tra gli esseri umani noi costruiamo qualcosa ma questo qualcosa deve essere mantenuto in efficienza non certamente come i punti italiani che crollano dopo 50 anni non c'è nessuno che si è preoccupato della loro manutenzione ci si accorge ma guarda questo capita anche per gli esseri umani tutto quello che si genera poi deve essere in qualche modo oggetto di manutenzione è evidente che il mio pensiero è un pensiero che nuovamente si esprime per analogia la stessa cosa vale per Dio che non cura soltanto il divenire ma cura l'essere ecco perché quando noi parliamo di creazione la creazione avviene in modo istantaneo dal nulla ma poi l'azione della creazione continua azione che non è soggetta né al moto né al tempo allo stesso modo la conservazione della luce nell'aria si attua per un influsso continuato dal sole non è che il sole illumina l'aria poi ci ha a dormire e l'aria arriva all'illuminata no il sole in un attimo allora non si conosceva ancora l'abbiamo già visto che la luce avesse un movimento non si conosceva questo movimento in ogni modo sempre in modo analogico in un attimo come la creazione di Dio abbiamo l'aria l'atmosfera illuminata in un attimo puff la luce va via nel momento stesso in cui viene bene il sole la stessa cosa vale se noi portiamo questo pensiero sulla creazione e sulla creazione che continua ogni istante per ogni ente da parte di Dio il primo articolo era il più complesso vedremo di procedere un pochettino più velocemente per l'articolo numero 2 mi detto che Dio conservi immediatamente ogni creatura è una tesi che crolla nel momento stesso in cui ci guardiamo attorno il fiore o la piantina di peperoni cresce grazie alla terra grazie alla luce grazie all'acqua grazie a concime quindi Dio non conserva immediatamente ogni creatura non è che ci voglia volto per capire che questa tesi è vediamo di sercontra Dio dà l'essere alle cose per mezzo di alcune cause intermedie pensate per un momento Mario che genera Luigi ebbene dà l'essere attraverso Mario Luigi assume un essere l'essere della forma quindi conserva pure le cose nell'essere mediante alcune cause la pianta il seme è causa della pianta la pianta è causa delle foglie dei fiori fiori sono causa del frutto quindi perché dovremmo pensare che ogni cosa abbia in Dio la sua prima causa e non ci siano delle cause intermedie come abbiamo detto due sono i modi di conservare una cosa nell'essere indiretto accidentale e diretto formale orbene possiamo constatare che alcune cose create conservano l'essere di altre in ambe due modi infatti è noto che anche tra i corpi ve ne sono molti i quali impediscono l'azione disgregata di altri e per questo sono chiamati preservativi così per esempio il sale preserva la carta dalla putrefazione quindi l'esempio ci sta benissimo ma ci sono tanti altri sistemi per cui un non è soltanto però qui io insisto anche non soltanto come forma di difesa da pericoli esterni in questo caso da parte di batteri che possono invadere la carne e farla marcire il sale agisce in questo modo ma proprio attraverso il conferimento di una determinata forma e ho appena fatto l'esempio del seme della pianta del frutto del del fiore del frutto dobbiamo perciò concludere che Dio conserva nell'essere alcune creature mediante certe cause ci sono delle cause intermedie vediamo le obiezioni Dio come si è visto conserva le cose con la medesima azione con la quale le ha create ma Dio è creatore delle cose immediatamente quindi le conserva pure immediatamente qui stiamo parlando dell'essere di portare all'essere ciò che non esiste nella stessa creazione delle cose stabilì un ordine per cui alcune di esse dipendessero e fossero conservate all'essere ecco l'ordine vogliamo di nuovo sottolinearlo questo ordine messo in evidenza poi se voi vi ricordate ne abbiamo parlato proprio nelle in questioni precedenti non mi ricordo più il numero della questione viate pazienza ma Dio ha sempre voluto la collaborazione da parte della creatura ma addirittura quella collaborazione che serve per la redenzione per il bene dell'umanità e così vale anche per tutto ciò che non è provvisto di intelletto e di volontà addirittura siamo arrivati a ricordare quelle ragioni seminali che ebbe a concepire Agostino e che sono molto vicino alla teoria dell'evoluzionismo darwiniano con la differenza fondamentale che Darwin attribuisce tutto al caso invece Agostino attribuisce l'evoluzione ad un ordine ad un percorso già prestabilito argomento 2 una creatura non può essere comunicata a una creatura non può essere comunicata alla facoltà di conservare se stessa molto meno dunque le potrà essere comunicata alla facoltà di conservare un'altra ma io qui non ho ben capito perché in parte Tommaso accetta questa obiezione dicendo come a nessun affetto può concedersi il potere no effetto come a nessun effetto può concedersi il potere di essere causa di se stesso e tuttavia può concedersi a essi il potere di essere causa di altri dunque è vero io non sono a causa di me stesso il mio essere non posso essermelo trovato io visto che entraremmo in una contraddizione di fondo però posso impegnarmi a mantenermi nell'essere come potrei essere la causa con un suicidio dell'annientamento di questo essere no quindi da un punto di vista dell'accidence io posso essere anche a causa di me stesso come posso mantenere gli altri nell'essere attraverso la mia opera no di attenzione come i genitori anche degli animali cercano di difendere le proprie creature da attacchi esterni è evidente che quando parliamo di forma come abbiamo sottolineato nell'articolo precedente allora io non posso essere a causa di me stesso poiché la causalità propria di ogni essere è volta a conservare l'effetto da essa dipendente se il papà Mario cerca di conservare l'effetto da lui dipendente per chi ne ha comunicato addirittura la forma Luigi dipendente non può certamente essersi comunicato da solo questa forma però ripeto noi non possiamo essere causa di noi stessi dal punto di vista dell'essere ma possiamo essere causa di noi stessi nella prospettiva della contingenza nel divenire nel preservarci nell'essere quindi non vedo per quale motivo ci debba essere questa obiezione iniziale che Dio conservi indiettamente ogni creatura evidentemente se io faccio uso di droga o di altre sostanze o di altri veleni è evidente che non mi conservo in salute e il mio essere tende poi a disgregarsi prima del tempo ma nel momento stesso in cui io mi impegno e impegnandomi trovo delle soluzioni migliori per vivere in modo più adeguato allora voi capite che sono causa del mantenimento in forma del mio stesso essere sebbene non causa della mia nascita del mio essere stesso dunque andiamo alla terza sembra che tutte le cause create siano causa dei loro effetti solo quanto al divenire perciò non sono cause capaci di conservare i loro effetti nell'essere nell'essere perpetuo no certamente nell'essere perpetuo c'è solo Dio è evidente noi possiamo solamente attraverso la transmutazione perché la creatura può agire soltanto su un soggetto persistente nell'essere perpetuo l'abbiamo detto e l'abbiamo sottolineato nel primo articolo noi possiamo solamente essere autori autori di un essere conservato e protetto per accidents e quindi a questo punto possiamo passare all'articolo 3 ed è interessante questo articolo 3 dove chi sostiene questa tesi iniziale ci dice sembra che Dio non possa anichilire una cosa quindi non possa annullare non possa portare qualche cosa al nulla farlo ritornare da dove è arrivato ora non è così sta scritto Genemia 10 24 castigami o signore ma con equanimità e non con tutto il tuo furore affinché tu non mi riduca al niente quindi vuol dire che Dio può trovarsi anche nella condizione di ridurre al nulla una sua creatura e questo viene dimostrato nel rispondio da Tommaso alcuni opinarono che Dio avesse prodotto le cose agendo per necessità di natura ma si ebbe a dimostrare nella questione 19 articolo 4 che Dio non fa nulla per necessità di natura anche perché se ci fosse una necessità di natura sarebbe la natura poi Dio e Dio non sarebbe più Dio abbiamo già visto Dio ha portato le cose all'esistenza con volontà libera secondo quel detto dei salmi tutto quanto vuole il Signore fece tutto quello che vuole fece ecco è questo il pensiero se Dio non ha fatto nulla in modo necessario così pure non può assolutamente ma non perché non possa perché non sia unipotente ma per coerenza non può trovarsi nella condizione di non portare a nulla ciò che ha creato pertanto la partecipazione dell'essere alle creature dipende solo dalla volontà di Dio né egli conserva le cose nell'essere altrimenti che come abbiamo detto somministrando loro continuamente all'essere nel momento stesso in cui Dio non vuole mantenere all'essere una creatura non ha bisogno di agire deve semplicemente sottrarre questa sua forza creatrice è come se passando una nube davanti ai ragi del sole l'aria per un momento si oscurasse vediamo le obiezioni Dio non è causa della tendenza al non essere non c'è dubbio ma la tendenza al non essere ce l'abbiamo noi purtroppo proprio perché siamo arrivati dal nulla e al nulla tendiamo ad andare molto spesso noi esseri umani intellettualmente con la volontà perché ci qui però viene fuori di nuovo il problema morale che è un argomento specifico della seconda parte perché ci allontaniamo da Dio il non essere non ha una causa diretta per questo Dio non può essere causa della tendenza al non essere ma tale tendenza le creature hanno in se stesse in quanto sono tratte dal nulla Dio però può essere causa indiretta per accidents nell'annichilazione delle cose sottraendo loro la sua azione vuoi finire nel nulla e questo vale anche per l'essere umano più che mai per qualsiasi altro ente seguire la tua strada è qualcosa di importante questo pensiero perché lo ritroveremo in seguito Dio è il Dio della vita non è il Dio della morte Dio l'abbiamo detto più volte non è il Dio dei morti è Dio dei vivi è Dio di Abramo di Isacco di Giacobbe quindi Abramo di Isacco di Giacobbe vivono ancora e non solamente in una prospettiva teorica però c'è anche chi vuole annichilirsi sapendo di andare incontro all'annichilimento 2 Dio è causa dell'esistenza delle cose per la sua bontà perché come afferma Sant'Agostino noi esistiamo in quanto Dio è buono ogni essere è tale in quanto è bene è effetto della creazione divina però la bontà divina non dipende dalle cose create se mai è la causa di ciò che è stato creato e oltretutto per una volontà libera perciò come Dio poteva non portare all'esistenza le cose senza pregiudizio della sua bontà così potrebbe non conservarle nell'essere sempre senza detrimento della sua bontà la vita come la grazia è un dono e in modo particolare laddove il dono non è meritato beh Dio potrebbe riprenderselo perché Dio bussa ma se io non apro come posso riceverne il dono se Dio nientasse una cosa questo non avverrebbe per mezzo di un'azione oltretutto perché poi c'è tutto il discorso dell'azione ma come Dio agisce per annientare no semplicemente cessando di agire cessando quella creazione di cui abbiamo detto all'inizio dei tempi e che continua perché altrimenti il creato sprofonderebbe del nulla articolo 4 eppure eppure nonostante quello che si è detto sembra proprio che qualche cosa venga anichilita eppure l'Ecclesiaste vi ricordate l'Ecclesiaste libro di Köhlet quanto mai pessimista però pessimista nella prima parte ma nella seconda ecco che si rivede completamente ci sono le risposte agli interrogativi che troviamo nella prima parte capì che tutto quanto Dio fa dura in perpetuo tra le opere che Dio compie nel creato alcune si svolgono secondo il corso naturale delle cose vi ricordate il seme la pianta il frutto eccetera quindi abbiamo un cambiamento dove non c'è l'annichilità alimento perché lo vedremo poi qui alla fine la materia rimane ma adesso continuiamo nella prospettiva di Tommaso altri invece come vedremo sono da lui compiute miracolosamente fuori da quell'ordine naturale posto nelle creature perché anche l'uomo in qualche modo dovrebbe a un certo punto corrompersi e finire nel nulla come qualsiasi altro essere ma il fatto che qualcuno qualcosa lente sia mantenuto in vita è una manifestazione della grazia divina è un dono particolare di Dio come afferma Paolo dei Corinti parlando tra l'altro del carisma dei prodigi a ciascuno è stata concessa la manifestazione dello spirito per utilità delle anime quindi ecco qui la manifestazione della grazia questa manifestazione del dono che poi diventa misericordia che poi diventa perdono che poi diventa amore che poi diventa redenzione ora la natura delle cose create mostra chiaramente che nessuna di esse sarà anichilita perché o esse sono i materiali l'anima dell'uomo gli angeli e allora manca loro la potenza al non essere quindi non sono istintivamente portate al non essere o sono materiali e allora esse durano sempre almeno a causa della materia che è incorruttibile come substrato della generazione della corzione la materia non verrà mai distrutta questa è anche una tesi dei primi filosofi dell'antichità e dei naturalisti cambiano le forme cambiano gli accidenti ma la materia non verrà mai annullata vediamo le obiezioni la prima obiezione è molto strana dice il fine il principio si corrispondono e così le creature saranno ridotte al niente visto che siamo partiti dal niente tutto ritornerà al niente e no perché se la creazione è opera di Dio espressione del suo amore ed è per questa rivolta a Dio come obiettivo finale non vuol dire che come obiettivo finale io debba in qualche modo ritornare nel nulla altrimenti sarebbe proprio insensato completamente insensata l'opera creatrice divina vediamo qual è il pensiero la risposta è differente dalla mia il fatto che le creature furono portate all'esistenza dimostra la potenza di colui che le produsse la conservazione delle cose costituisce la prova più grande della potenza di Dio secondo l'espressione dell'apostolo essendo egli colui che sostiene con la parola della sua potenza tutte le cose il fatto stesso che Dio abbia creato e sempre con la sua stessa parola mantenga in vita ogni essere quale ragione ci sarebbe perché poi alla fine tutto venisse a ritornare nel nulla seconda obiezione ogni creatura ha una potenza finita una nessuna potenza finita si estende all'infinito certo certo il fiore ha una potenza finita il frutto ha una potenza finita ma anche l'uomo ma abbiamo detto che per grazia c'è chi ha ricevuto la possibilità di assimilare quel dono e di sublimarlo la potenza che ha la creatura esistere è puramente passiva mentre la potenza attiva aspetta soltanto Dio l'abbiamo detto e ripetuto sorgente unico dell'essere nella creazione e nel mantenimento della creazione all'atto dell'essere certo creature però ricevono una limitata capacità di durare certe creature ho letto sbagliato certe creature però ricevono una limitata capacità di durare in quanto possono essere impedite da ricevere l'essere che viene da Dio da gente contraria questo lo sappiamo ma ci sono certe creature proprio che hanno una limitata capacità di durare perché così sono state programmate al limite si possono riprodurre ma di per sé hanno una vita breve tuttavia abbiamo detto nel rispondeo questo divenire non toccherà mai la materia le forme rimangono la materia rimane e nulla è portato all'annichilimento è evidente che per quanto riguarda l'angelo e l'ipostasi persona lì abbiamo una durata per grazia per volere miracoloso divino che dona all'ente ipostasi proprio e alla persona questo dono della vita eterna terza argomentazione le forme gli accidenti non hanno la materia quale parte di se stessi dunque finiscono del nulla no perché la materia potenzialmente avrà sempre sarà sempre nella condizione di ricevere sia le forme essenziali sia quelle accidentali le forme gli accidenti non sono enti completi perché non esistono di per sé non abbiamo l'iperuramio di Platone perché non sussistono ma sono qualcosa dell'ente tuttavia anche così come sono non finiscono totalmente nel nulla non che rimanga una qualche parte di essi ma perché rimangono nella potenzialità della materia e del soggetto quindi ecco con questo abbiamo terminato anche questa questione che è la appunto 104 dobbiamo passare poi alla 105